Poi puoi rilevare queste ricordi in un modo magico su Apple Vision Pro. Questo è davvero importante, perché il tuo iPhone è con te tutto il tempo. Quindi non ti fai mai capire capire un momento speciale usando un video spazio. Come la tua famiglia di spazio. Il video spazio fa sentire che sei proprio attorno a quel momento in tempo. Che tristezza questa cosa che stanno tuo padre e tua sorella, che stanno... Tu sei così? Perché poi a casa fai... Quanto era bello quel momento, eh? Vai, ti ricordi quando... Il futuro.